Buona giornata da Nico Schiodetto. Previsione e tendenza per la giornata di mercoledì quando l'anticiclone interesserà gran parte dell'Italia con condizioni di stabilità ma caldo intenso al centro-sud. Qualche temporale invece all'estremo nord-ovest e sulla catena alpina perché le correnti umide oceaniche sfioreranno appunto le Alpi e saranno ben attive presenti tra Francia, Germania e Svizzera. Andiamo al dettaglio della nuvolosità, prevediamo una giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi però attenzione ai temporali che si formeranno come possiamo vedere nella prossima grafica durante il pomeriggio su Alpi, Prealpi, parte di Piemonte, Alta Lombardia, non escludiamo ovviamente localizzate celle intense. Nel dettaglio ecco qui i fenomeni nella seconda parte del giorno a interessare l'estremo nord-ovest e le montagne del nord, al centro-sud bella giornata ma caldo intenso soprattutto sulle aree interne e lontane dalle brezze di mare. Tutti i dettagli precisi, gli ulteriori approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.